Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Sarà Marco Sartori a guidare la Lega Nord in questa nuova fase in vista di un probabile ritorno alle urne. Ieri sera durante il congresso cittadino indetto dal commissario Angelo Ciocca il Carroccio ha optato per l'avvocato Sartori, ex capogruppo in consiglio comunale e si è dimesso per candidarsi alla segreteria cittadina e con alle spalle già diversi anni di militanza nel gruppo. Sartori ha ottenuto 10 preferenze contro i 7 voti andati ad Ottavio Marchesi. Il nuovo direttivo della Lega Nord, che rimarrà in carica a tre anni, è ora composto da Ivan Elfi, Graziano Ghia, Elena Lucchini e dal segretario uscente Filippo Musti. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.